Quanto manca la cina? L'acqua è finita, mi faccio un caffè americano, vi faccio vedere come si trema Guarda guarda, ho preso un po' di fresco eh, anche io però visto che c'è la telecamera scelta, faccio vedere niente E' difficile iniziare questo video ma io so come fare, buongiorno a tutti, guardate il mio nuovo amico cappellone Per fare le dighe dall'alto in elicóptero Buongiorno ragazzi, siamo in fortuna Ciao Buongiorno Tu fai ciclista? Io? Ragazzi due famosi... basket Basket, sì sì Non ho capito... Quindi con Enel Green Power andiamo a visitare diche, centrali idroelettriche, come l'acqua funziona, la forza dell'acqua, cosa ci porta, cosa fa Enel Green Power per portare energia Ora voliamo, non con questo, non proprio il quattro vero Quindi questo è il vero e proprio giro dell'acqua, non ce lo mostri poi lo facciamo in elicottero Andiamo a immagazzinare l'acqua all'interno di questo lago Allora dopo la spiega della centrale idroelettrica qui di Dossi, siamo nella Bergamasca, andiamo a farci il giro dell'elicottero In elicottero perché andiamo a fare il giro dell'acqua vero e proprio, cioè come viene utilizzata l'acqua per produrre energia Quindi dalla centrale partiamo con l'elicottero, facciamo tutto il giro, andiamo alla diga del Barbellino E da lì parcheggiamo, si dice parcheggiamo l'elicottero, e quindi andiamo a visitarla Però prima di salire in elicottero, Simo manda tutta la parte vlog del giro dell'acqua che abbiamo fatto ieri al giro di Lombardia Con il Green Power, con il team, con la Scarlata, il mio nuovo amico Omar Un'acqua assurda Quindi raga, stay in touch, guardatevi il giro e poi andiamo a volare in elicottero Ciao Ciao Sì, è la mattina, c'è da andare ragazzi Tutto pronto? Lì, è nel Green Power Siamo pronti per le grattugge Mi fa stacco Mi fa stacco Bello le zia, l'uizio Partiti dall'hotel con l'ammiraglia, eh Con l'ammiraglia, con i corridori Ma che roba Carichissimo Mi piace sto uomo Ascoltami Abbiamo letto la Scarlata che la faceva a missione, ma piove Quindi io dal chilometro 1 Lombò C'era 0-1 Esatto A manetta Infatti il mio vlog, non so come si chiamerà il tuo, ma il mio è 110 km a palla Vabbè, avevamo appena detto che È un grande divertimento Oh saluto a Elisa che ci vediamo alla fin Elisa, faremo un bellissimo giro in bicicletta Sì, bellissimo Che è che ha preso le barrette per me 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 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 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 11 10 12 11 Raga il gelo dell'acqua è finito mi faccio un caffè americano vi faccio vedere come si trema ho preso un po' di fresco anche io però visto che c'è la telecamera scelta faccio vedere niente Veloce veloce che dobbiamo partire dobbiamo partire Oh compagno! You heli ride! I'm feeling good, I'm feeling really good Guarda come rampa il suo ma fa paura Oh man mi stai gasando anch'io voglio un'elicottero Ma è bellissimo Can I go daddy? Grazie Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti I'll see you very much Ciao ragazzi il vlog finisce con i danni fatti logicamente in a very last minute Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti